salve e bentornati allora riprendo la parte relativa alla scelta delle strategie chi ha visto il primo video di questa serie si sarà domandato e qualcuno infatti me lo ha domandato ma perché non c'è l'audio perché non c'è una musichetta perché non c'è niente allora io ho insegnato l'utilizzo di vari software per alcuni anni e aver fatto questo mi ha fatto apprendere una serie di cose sull'insegnamento allora una prima cosa è quella relativa al livello attenzionale che si può dare a delle nozioni che vengono lette e non commentate senza distrazioni esterne per cui il primo video era volutamente muto proprio perché volevo invitare chi ovviamente è interessato a cercare di concentrarsi sulla struttura del software perché in pratica fusion ha una interfaccia estremamente devo dire semplice ma complessa per il numero di variabili quindi l'autodesk ha fatto un ottimo lavoro nella strutturazione dell'interfaccia però è anche solo ed esclusivamente relativamente alla parte cam un software abbastanza complesso per il numero di variabili qui subentra il secondo aspetto relativo alla diciamo mia esperienza fatta e cioè prima di nell'insegnare all'utilizzo di un software prima di addentrarsi all'interno proprio della procedura pratica ho riscontrato che era molto molto utile spiegare prima o gli aspetti teorici che stanno dietro l'utilizzo del software che ci sono sempre oppure approcciare spiegando quella che è la struttura generale dell'interfaccia del software perché aiuta a comprendere la logica per capirci invece di aprire fusion e andare a cliccare un po a casaccio farlo sapendo che cosa si sta facendo e adesso qui diciamo vi vado a dettagliare le informazioni che vi avevo dato nel primo video quindi per intenderci se voi vedendo quel video avevate già chiaro tutto cioè guardando quel video vi siete chiesti vabbè ma questo che ci sta spiegando per me questa cosa è già chiara ecco perfetto allora potete tranquillamente non proseguire nella visione dei video successivi perché evidentemente siete bravi e avete già capito tutto se invece eravate nella situazione per la quale praticamente vi siete posti la domanda ma che significa questa cosa non l'ho capita bene ecco allora a voi consiglio invece di guardare i video successivi perché evidentemente alcuni elementi logici dell'insieme non vi erano non vi sono chiari per gli altri ripeto evidentemente buon per loro è già tutto chiaro e per cui sconsiglio proprio la visione del video allora abbiamo visto che fusion praticamente racchiude tutte quante le operazioni che ci consente di fare per la creazione dei percorsi e quindi del gcode in due menu principali le strategie 2d e le strategie 3d allora su queste bisogna fare una piccola premessa cioè la distinzione in 2d e 3d non è da intendersi come dire nell'accezione canonica per dire ad esempio per chi proviene dal mondo cad nel cam il 2d è da intendersi generalmente in lavorazioni che hanno una z costante cioè in pratica noi andiamo sempre a realizzare un oggetto che è tridimensionale però nel cam vengono generalmente distinte le operazioni tra quelle che creano un percorso macchina cioè la fresa che lavora il pezzo con una z costante e quelle che invece creano un percorso macchina con la fresa che ha una z che varia lungo il percorso poi vedremo anche che questa distinzione non è neanche così netta però faccio questa premessa per cercare di chiarire un po meglio questo concetto perché mi rendo conto che se uno ad esempio viene dal cad vede il menu 2d il menu 3d come dire può lasciare anche all'inizio un po spiazzata questa cosa perché non si riesce a comprendere bene poi ripeto all'interno dei menu anche questa distinzione fatta in questo modo non è così netta perché ci sono delle delle variabili però da un punto di vista generale possiamo distinguerlo in questo modo quindi se noi andiamo in fusion ed andiamo ad aprire il menu delle strategie 2d ci accorgiamo che già qui abbiamo a disposizione ben 11 strategie 2d ok se poi proseguiamo e andiamo a vedere il menu delle strategie 3d ci accorgiamo che qui ne abbiamo addirittura altre 14 quindi senza aver ancora praticamente fatto nulla per intenderci noi abbiamo già a disposizione 25 variabili che non è poca cosa di cui tener come dire traccia a mente quindi abbiamo 25 strategie tra tra cui possiamo attingere per andare a determinare le nostre lavorazioni dobbiamo andare a capire lui come ci consente di gestirle e quali sono le variabili che sono al loro interno qui entra in gioco diciamo l'ottimo lavoro fatto dall'autodesk in pratica noi abbiamo un pannello di controllo che è identicamente lo stesso per tutte le strategie in pratica da questo pannello organizzato in cinque tab e sotto sessioni che poi andremo a vedere io posso comandare e gestire tutte le strategie quindi rifacendo un conteggio della serva noi avevamo 25 variabili che erano le strategie le andiamo a moltiplicare per cinque che sono le tab con cui io posso gestire ogni strategia e già qui capiamo che siamo a 25 per cinque ok quindi siamo già a 125 variabili e non abbiamo ancora visto nulla ecco perché cerco di spiegare prima di tutto la struttura del software perché dal momento in cui si comprende la logica della strutturazione secondo me si può capire meglio come funziona il software e si può memorizzare meglio quelli che sono gli elementi fondamentali per poi andarlo a gestire perché intendiamoci riuscire a memorizzare tutte le variabili che Fusion ci mette a disposizione richiede ore ore ed ore di applicazione perché altrimenti credetemi non è possibile quindi torniamo al discorso abbiamo 25 strategie 11 strategie 2d 14 strategie 3d e il pannello di controllo che è unico identico per tutte le strategie e che è suddiviso in cinque tab le cinque tab questa sorta di cassetti in cui con una determinata logica l'autodesk ha racchiuso i comandi sono comuni a tutte le strategie possono variare al loro interno ma sono comuni e quindi abbiamo la prima ho lasciato i nomi in inglese in modo tale da avere come dire il riferimento col software la prima tool che è per la selezione degli strumenti la seconda geometri che è per la selezione della geometria degli oggetti da sottoporre a lavorazione la terza che è le altezze cioè il controllo delle dei movimenti in altezza della fresa la quarta che è le passate cioè le modalità di esecuzione praticamente della strategia e la quinta che è il linking che praticamente è la possibilità di gestione dei singoli parametri nel collegamento tra le passate allora mi sono dimenticato all'inizio di fare una premessa l'ho detto tante volte ma lo ripeto se state approcciando al mondo cam io do a tutti il consiglio di non farlo con un software tipo fusion che soprattutto per chi non ha esperienze cad o di stampa 3d o di altre cose può risultare ostico e complesso ma di approcciarsi con software più semplici io ne ho fatti vedere vari consiglio a tutti ad esempio jscat per iniziare però se come dire avete intenzione di imparare direttamente questo non è che non si possa fare però è chiaro qui dentro ci sono molte più variabili molte più cose da memorizzare valutate voi io vi do il consiglio di partire da una cosa più semplice e poi approfondire piano piano però sta a voi la scelta insomma quindi facendo un piccolo riepilogo noi abbiamo le nostre strategie che vengono gestite tutte quante mediante l'ausilio di un pannello ogni pannello è diviso in 5 tab ogni tab compie delle operazioni specifiche per un determinato scopo ora ogni tab è suddivisa in sezioni queste sezioni le andremo a vedere alcune sono uguali per tutte le strategie alcune di queste invece vanno a variare in relazione alla strategia che noi andiamo ad aprire quindi praticamente al di là della strategia che io vado a selezionare apro la il pannello di controllo mi si aprono le 5 tab però a seconda della strategia che io ho selezionato la sezione relativa alla tab che ho scelto può essere ripetuta su tutte le strategie oppure non essere presente in alcune strategie per cui riepilogo abbiamo il nostro pannello abbiamo le nostre 5 tab e abbiamo le n sezioni relative ad ogni tab che possono essere costanti su tutte le strategie oppure non essere presenti in alcune strategie insisto molto su questa cosa perché credetemi è la cosa fondamentale da da capire all'inizio sulla strutturazione logica del del fusion soprattutto ripeto per chi è alle prime armi quindi abbiamo aperto il pannello abbiamo aperto la tab all'interno della tab ci sono le sezioni della tab ovviamente per ogni specifica strategia in ogni sezione noi avremo una serie di parametri ora senza entrare nella qualificazione del singolo parametro facendo un riepilogo 25 strategie 5 tab n sezioni per ogni tab con n parametri per ogni tab credo che vi stiate rendendo conto che senza uno schema logico iniziale non è possibile approcciare al software in maniera sensata io ho visto tantissimi video che spiegano fusion però lo fanno come dire facendovi fare un una operazione che non vi crea il quadro anche io ho fatto dei video con i quali vado a realizzare degli oggetti ma quelli per me più che per spiegare fusion sono diciamo per la realizzazione di un oggetto perché in quel ma in quella maniera a mio giudizio è molto difficile per chi non è avvezzo a determinati software comprendere la logica generale del software quello che invece io qui vado a fare è cercare cercare di fornirvi un approccio logico che praticamente in una qualche maniera vi semplifica la comprensione generale del software quindi riepilogando siamo all'interno del nostro pannello nel quale abbiamo le nostre tab suddivise logicamente per classi di operazioni che vado a decidere ogni tab ha all'interno delle sezioni all'interno delle quali a loro a sua volta ci sono dei parametri da conoscere e settare oppure non settare a seconda delle esigenze ora andiamo a vedere un po più nel dettaglio questa cosa allora siamo praticamente alla prima tab che è quella relativa ai tool questa è da un lato la più semplice perché praticamente è comune a tutte quante le strategie quindi è si ripete in maniera identica per tutte le strategie però allo stesso tempo non è semplice e lo vedremo più avanti in quanto i parametri in gioco in questa sezione richiedono una specifica comprensione però andiamo per gradi quindi analizziamo le due sezioni in cui è divisa la tab la prima è la sezione tool e la seconda è la sezione feed and speed con la tool io praticamente gli vado a dire qual è lo strumento che vado ad utilizzare cioè specificatamente la fresa con e poi c'è l'aggiunta del liquido di raffreddamento con la seconda invece devo andare a settare tutti i parametri e di lavorazione della fresa e questa è la parte che richiede ovviamente un minimo di conoscenza ma nella logica di approccio che sto cercando di darvi i parametri sono quelli che poi che andremo a vedere alla fine quindi rivedendo ripercorrendo la gerarchia di strutturazione del software noi seguiamo questa logica la strategia la tab il pannello di controllo scusate le tab all'interno del pannello di controllo e le sezioni per cui prima analizziamo le sezioni e poi in seguito andremo a vedere i singoli parametri sulla tool memorizzare uno che io vado a indicare con quale fresa lavoro e qui poi chiaramente c'è un mondo di cose da sapere la seconda che sono i feed and speed che vado ad indicare tutti i parametri di lavorazione e che la tool tab è identicamente ripetuta per tutte le strategie quindi i parametri che sono qua dentro io dovrò sempre impostarli a prescindere dalla dalla strategia che vado a selezionare per rendere più chiaro la più chiara scusate la correlazione che c'è tra ogni sezione e la relativa strategia io ho predisposto queste tabelline che vi evidenziano in maniera chiara quando la sezione è da impostare all'interno della strategia che ho selezionato quindi vedete che sulle colonne ho indicato tutte le strategie ovviamente qui siamo nell'ambito delle strategie 2d poi c'è indicata la tab che sto analizzando e nelle righe a sinistra tool feed and speed quelle sono le sezioni di quella tab in questo caso vedete che sono tutti sì e cioè ripeto significa che al di là della strategia che io ho selezionato questi sono valori o elementi che io devo o selezionare o indicare ok quindi credo che sia abbastanza chiara l'evidenzazione del fatto che questa è comune a tutte quante le strategie allora adesso invece siamo nella geometry tab questa è suddivisa in sette sezioni e queste sezioni non sono comuni a tutte le strategie questa cosa che io ci insisto spero che riuscirete poi a comprenderne la logica non è non è un dettaglio perché incide sulla modalità di scelta della strategia ora andiamo avanti vediamo che cosa sono le singole sezioni così probabilmente si capisce meglio questo concetto già soltanto guardando la tabellina di correlazione che ho predisposto riuscite penso proprio in questo caso chiaramente a rendervi conto che a seconda della strategia che io scelgo quella sezione sarà a disposizione o non sarà a disposizione che significa questo che da un lato avrò dei parametri da inserire o non o da non inserire ma dall'altro significa anche che avrò a disposizione una specifica funzionalità di quella classe di azioni oppure non non l'avrò a disposizione e questo crea una differenza di non poco conto allora andiamo a vedere le singole sezioni con la geometri in pratica io vado a selezionare la geometria da lavorare in base al mio modello e la modalità di selezione vedremo cambia in base alla strategia che ho scelto però sostanzialmente cos'è che da memorizzare che con la sezione geometri io dirò al software di lavorare delle parti che vado a selezionare dal mio modello con lo stock contour invece io gli vado a dire di prendere come riferimento per la lavorazione non il mio modello cioè diciamo l'oggetto supponiamo 3d che ho inserito all'interno ma lo stock di materiale che ho definito nel setup quindi qui già il mondo si divide in due lavoro sul modello o lavoro sullo stock poi vediamo che c'è la sezione tabs che è quella relativa alla gestione dei ponticelli i ponticelli per chi non lo sapesse sono degli elementi che vengono inseriti allora supponiamo che io ho un rettangolo devo andarlo al ritagliare però non voglio che la macchina mi tagli tutto quanto il rettangolo perché questo perché se me lo taglio tutto quanto c'è il rischio che il pezzo mi salti e mi mandi in crash la lavorazione e quindi in alcuni casi si inseriscono questi ponticelli che fanno sì che praticamente il rettangolo non viene tagliato completamente alcune parti vengono saltate quindi il pezzo rimane fermo in macchina quando la lavorazione è finita siete voi che dovete andare a togliere fisicamente quelle parti rimaste se avete visto i miei video io questa cosa l'ho detta tantissime volte un'altra sezione invece è quella relativa al rest machining allora ecco questa per esempio è una cosa utilissima in pratica il rest machining consente di effettuare una lavorazione però tenendo conto di una lavorazione precedente e cioè supponiamo che io devo sgrossare un'area per fare in fretta utilizzo una fresa da 6 mm però quella fresa non mi andrà a lavorare determinati angoli perché magari hanno un raggio di curvatura inferiore al raggio di curvatura della fresa stessa che è 6 mm allora io ad esempio sarei costretto ad utilizzare una fresa da 3 mm ma se utilizzo una fresa di a 3 mm in una spianatura è evidente che raddoppio in maniera esponenziale proprio i tempi di lavorazione quindi che faccio faccio prima una lavorazione a 6 mm le parti che non restano lavorate andrò a fare per quelle parti andrò a fare una nuova lavorazione con la quale dirò a lui vami a lavorare quella stessa area però tenendo conto che quella stessa area è già stata lavorata prima con una fresa più grande gli ultimi tre le ultime tre sezioni non le prendo in considerazione perché sono praticamente utili nelle CNC con più di tre assi io non ho la CNC con più di tre assi per cui quelle sezioni non mi interessano e voi per dire adesso già sapete che se avete anche voi una CNC a tre assi potete anche saltare la conoscenza di quelle parti lì allora adesso con la tabellina che avevo impostato prima e che quindi ripeto per ogni sezione credo vi sia un po più evidente l'utilità di questa correlazione allora facciamo l'esempio sul rest machining se io ho necessità di utilizzare quella specifica funzione come potete vedere dalla tabellina quella funzione non sarà disponibile in tutte le strategie per cui se ad esempio io sto nella fase nella quale devo stabilire l'ordine delle mie lavorazioni e so che ad un certo punto io avrò la necessità di effettuare proprio un'operazione di supponiamo sgrossatura con una fresa grande in modo tale da velocizzare ma poi andare a lavorare determinate le parti ecco io qui già so che la strategia che dovrò andare a scegliere per poter determinare per poter effettuare la lavorazione con il rest machining la potrò andare a selezionare solo all'interno di quelle tre vista così a mio giudizio è facilmente comprensibile altrimenti voi probabilmente che avreste fatto avreste ripassato la lettura di tutte le strategie all'interno del software fin quando non sareste arrivati poi a memorizzarle voi a memoria ma come ho detto dall'inizio il numero di variabili qui dentro soprattutto per chi si sta approcciando sono tantissime con questo schema io sono convinto di rendere la cosa invece molto più chiara e comprensibile per cui invece di andarmi a leggere le singole strategie e capire quello che fanno io da qui so che più o meno ma io devo fare questa operazione chi è che mi consente di farla e vado praticamente a selezionare la strategia al contrario cioè per esclusione quindi andando per esclusione io posso applicare lo stesso criterio allo stock contour alle tabs arrest machining perché posso avere esigenze di lavorazione differenziate poi è chiaro nel corso del tempo dopo che avrete fatto tutta una serie di lavorazioni le sezioni principali ovviamente le avrete memorizzate però se state iniziando adesso è chiaro che con questo sistema è molto più almeno a mio giudizio semplice comprendere diciamo le i vincoli che ci sono all'interno delle varie lavorazioni in relazione alle singole strategie poi ripeto tenete presente che qui stiamo ancora parlando solo della sezione non siamo ancora entrati nel dettaglio dei singoli parametri e adesso qui siamo alla tab sulle altezze allora una premessa in pratica quasi tutti i software diciamo semplici di gamma hanno generalmente un'altezza che possiamo riportare alla clearance cioè in pratica noi gli andiamo a dire di quanto la punta si deve alzare in z dal nostro piano di riferimento nei passaggi cosiddetti liberi cioè tra quando fa una operazione di lavorazione a quando va a fare quella successiva per cui con un parametro noi gli diciamo ad esempio ti alzi di 5 mm attraversi tutta la tavola poi ti riabbassi di 5 mm e rinizi a fare la lavorazione in fusion non ne abbiamo una sola ma abbiamo praticamente cinque parametri diversi che poi come vedremo si possono andare a settare con tutta un'altra serie di variabili allora perché dico questo perché richiamo quello che ho detto già più volte se state approcciando a questo mondo tenete presente che forse sarebbe meglio iniziare con un software più semplice e io continuo a consigliare jscat poi un'altra valutazione che secondo me dovreste fare è questa dove voglio arrivare con la mia cnc cioè se io so già da ora che le uniche operazioni che andrò a fare supponiamo saranno delle scontornature di testo ma probabilmente è inutile che mi vado ad inserire su questa strada cioè ad andare ad imparare un software che invece è pensato per fare cose molto più complesse oltre che ripeto gestire una cnc che non è semplicemente una tre assi ma è 4 o 5 assi dico questo perché il mondo delle cnc sta vivendo un boom particolare e quindi molte persone stanno approcciando a questo mondo non provenendo da una specifica competenza per cui mi rendo conto che ritrovarsi con tutta questa serie di elementi può sicuramente spiazzare per cui il consiglio che do è pensate bene a che cos'è che vorrete andare a fare con la vostra macchina e valutare bene se è il caso di imparare un software come questo se magari semplicemente andare ad utilizzare un software come già detto come inscape come jscat con il quale con quattro parametri riuscite ad ottenere il risultato finale se invece avete intenzione di proseguire nel tempo e quindi aumentare sempre di più le vostre capacità allora il consiglio è al contrario lasciate perdere quei software e direzionatevi direttamente verso questo ma torniamo alla questione delle altezze allora lui ci suddivide praticamente la gestione delle altezze in 5 sezioni noi siamo nella tab delle altezze e abbiamo 5 sezioni andiamo a vederle allora quindi noi abbiamo la clearance, la retract, la feed, la top e la bottom praticamente pertanto possiamo andare a settare i movimenti della macchina prima e dopo di una lavorazione con 5 differenti parametri questi parametri sono utili in determinati casi ma sono superflui in altri fatto sta che comunque sia praticamente sono esclusa la feed ripetitivi su tutte le strategie per cui sono da impostare su tutte le strategie e incidono sui tempi di lavorazione per cui come vi dicevo prima sono tra virgolette una complicazione ulteriore nella determinazione di una lavorazione però sono in alcuni casi estremamente utili non lo sono a mio giudizio nelle operazioni chiamiamole da ubista cioè lavorazioni su tavole di legno che prevedono scontornatura tagli, fori ma anche nel 3D fino ad un certo punto sono invece estremamente utili nelle operazioni di lavorazione metalli e soprattutto nelle operazioni che vanno oltre il terzo asse come vediamo poi dalla foto dalla tabellina di correlazione ci rendiamo conto che sono da impostare praticamente su quasi tutte le lavorazioni nei video che andrò a fare successivamente ma qualcuno l'ho già fatto andremo a vedere poi la specifica utilità di ogni sezione nella logica però di come dire di come ho impostato questi video qui quello che conta è memorizzare che c'è una gestione delle altezze suddivisa in cinque sezioni delle quali la più importante chiaramente è la clearance ma incidono anche le altre e che io devo settarle su tutte le strategie siamo arrivati alla tab sulla praticamente gestione delle passate allora qui abbiamo sette sezioni e che non sono comuni a tutte quante le strategie vediamole una per una ma mi soffermerò su quelle principali allora noi abbiamo la prima sezione che è la passes che è quella con la quale io vado a definire la geometria della passata ecco questa è una cosa molto molto importante perché è quella con la quale io gli vado a dire praticamente la geometria di passata e quindi è fondamentale per definire il risultato finale gli step over e via dicendo per cui la passes è sicuramente di interesse poi c'è la multiple depths ecco questa qui è direi fondamentale perché questo perché questa sezione è quella che mi consente di poter praticamente correlare la lavorazione che andrò a fare sulle specifiche della mia macchina che significa allora se io ho una macchina con una certa capacità potrò fargli fare ad esempio una passata su una tavola in abete da 6 mm cioè dirgli vai a fare un supponiamo un contorno devo tagliare un rettangolo e andare a dire al software quando vai a fare il rettangolo scendi di 6 mm in zeta quindi la mia macchina andrà a tagliare in un'unica passata 6 mm di materiale ma se io non ho una macchina che è in condizione di fare questo allora devo andare a praticamente suddividere la lavorazione quindi io ho una tavola da 6 mm ho una macchina che mi consente di tagliare un rettangolo facendo un'unica passata quindi facendo affondare la zeta di 6 mm e tagliare ok imposto e vado ma se io invece ho una macchina che non mi consente di fare un taglio da 6 mm io e supponiamo che la mia macchina può lavorare fino a 2 mm è solo un esempio allora io gli vado a dire suddividimi la lavorazione in più passate e la passata massima è questa quindi supponiamo 2 mm ecco che il multiple depth diventa un parametro fondamentale un secondo parametro molto utile ma che non è che viene che viene sempre utilizzato è lo stock to leave ripeto quando io dico queste cose ho a riferimento un pubblico di chiamiamoli hobbisti cioè di persone che non vanno a realizzare delle operazioni da operatore cam specializzato perché altrimenti penso che non stareste qui a guardare il video insomma lo stock to leave è fondamentale come indicato per le operazioni di sgrossatura e finitura cioè supponiamo che io voglio un oggetto rifinito che faccio gli vado a dire quando fai l'operazione qualsiasi essa sia lascia comunque sia che ne so un millimetro perché quello poi lo andrò a togliere dopo con un'altra lavorazione perché magari io faccio la sgrossatura ad una velocità e con degli stepover grossolani e dopo invece faccio una passata di finitura e di determinazione poi della sagoma finale andando a togliere direttamente solo quel millimetro o mezzo millimetro a seconda del materiale della lavorazione che sto facendo per ottenere la rifinitura finale in questo caso lo stock non è da intendersi così come l'abbiamo visto all'inizio e cioè il pezzo di materiale lo stock to leave cioè il materiale da lasciare è da intendersi come l'oggetto che io sottopongo a lavorazione quindi lui a prescindere da quello che avete selezionato non gli interessa qui che sia effettivamente lo stock come lo intendeva all'inizio come l'abbiamo visto all'inizio del video cioè il pezzo che metto in macchina poi ci sono ulteriori parametri qui entriamo nel dettaglio lo smoothing per la definizione della curvatura degli archi ma anche qui entriamo in un in specifica che secondo me interessano solo chi fa determinate lavorazioni stesso discorso per il feed optimization per il rocking passes invece il discorso è un po' diverso perché può tornare utile in in alcuni casi anche per chi non è un operatore specializzato stesso discorso per il chamfer perché è una diciamo una classe di operazioni specifica per la realizzazione di smussature che invece può tornare utile in vari casi per cui ora di nuovo andiamo a vedere la tabellina di correlazione e vediamo praticamente che per quanto riguarda i passes ovviamente vanno è una sezione che va specificata per tutte le strategie ma vediamo anche che ad esempio il il multiple depths se noi abbiamo necessità di quella specifica funzione il numero delle strategie si riduce e quindi se dobbiamo andare a settare le passate in z dovremmo andare a cercare la nostra strategia ovviamente tenendo conto poi di tutte le altre specifiche all'interno di quelle che mi consentono di poterla impostare stesso discorso per quanto riguarda lo stock to live se io ho necessità di effettuare una lavorazione lasciando uno spessore non lavorato anche qui dovrò andare ad individuare la strategia tra quelle che mi consentono di farlo io faccio riferimento a quelle che ritengo essere quelle principali per cui in questo caso sicuramente il multiple depths e lo stock to live sono quelle diciamo più ricorrenti poi a dimostrazione del fatto che lo stock to live non c'entra niente con lo stock con tour lo possiamo evincere dal confronto della geometry tab con la pass e stab cioè con le due tabelline di riferimento e vedere che in pratica lo stock con tour io ce l'ho con le prime quattro strategie mentre lo stock to live ce l'ho con altre strategie vedete che questa correlazione è utile anche per comprendere bene i concetti del software che a volte potrebbero anche travisare con l'utilizzo dei termini un'altra cosa che poi mi sono dimenticato è questa tenete presente che imparare bene tutta questa strutturazione logica poi torna utile anche per le strategie 3D perché come dicevo all'inizio il sistema del software è lo stesso rimane invariato ed ecco uno dei motivi fondamentali per cui come dire mi sono dilungato e ho accentrato l'attenzione sulla comprensione della logica complessiva con cui Fusion ci consente di andare a gestire tutti quanti i parametri di lavorazione allora siamo arrivati all'ultima tab questa è quella relativa ai linking cioè in pratica alle modalità di connessione di movimentazione tra una lavorazione e l'altra questa devo dire è piuttosto specifica di Fusion cioè sono una serie di parametri che non trovate generalmente in altri software escluse quelle più generali come ad esempio le ramp allora qui come dire si entra nel tra virgolette livello un po' più elevato di Fusion cioè quello specifico per la definizione di operazioni chiamiamole di di livello alto così ci intendiamo però tra queste comunque sia ci sono delle cose che possono essere utili allora sicuramente è la definizione delle rampe questa è estremamente utile soprattutto nella lavorazione di metalli comprendere il perché delle rampe significa capire una serie di cose in relazione alle resistenze dei materiali alla conformazione delle punte una serie di cose però diciamo che di queste sezioni qui una delle più interessanti sicuramente è quella relativa alla definizione delle rampe e poi comunque sia con il fatto che sia il linking come vediamo dalla tabellina che deve essere definito comunque sia per tutte le strategie così come il let's and transition cioè in pratica la modalità di entrata e di uscita della fresa in determinate posizioni che vanno settate e vanno comprese per quanto riguarda la correlazione vediamo che praticamente se abbiamo necessità di andare a definire le rampe dobbiamo fare riferimento unicamente a quattro strategie per cui questa è è un parametro che determina una riduzione delle nostre scelte per quanto riguarda tutti i relativi parametri poi ripeto lo vedremo più in seguito fatto sta che anche da questa si riesce a comprendere che se ho un'esigenza specifica io ho una modalità di esclusione di alcune strategie in relazione a quella esigenza di lavorazione che ho nel caso specifico insomma quindi finalmente siamo arrivati praticamente alla fine di questo secondo step per cui adesso in pratica sappiamo qual è la struttura con cui Fusion ci consente di andare a impostare le strategie ripeto la struttura generale che noi abbiamo visto per le strategie 2D è la stessa che si ripercuote nelle strategie 3D quindi avremo sempre il pannello di controllo le tab e le sezioni vedremo che alcune di queste si ripetono anche nelle 3D alcune invece non ci sono e poi ce ne saranno di altre però qual è la cosa importante che si dovrebbe essere a questo punto memorizzato lo schema generale di funzionamento oltre questo dovremmo anche come dire aver appreso un metodo per andare ad individuare la lavorazione che ci interessa che è come più o meno ho detto in pratica per esclusione cioè sapendo cosa mi occorre fare facciamo un esempio mi occorrono i punticelli allora io so che la strategia devo andare a cercarla tra quelle che mi consentono di farlo e nel caso specifico solo la 2D contour mi consente di impostare i punticelli di esempi se ne potrebbero fare tantissimi però al di là della specifica esigenza secondo me quello che è importante è aver compreso la la logica complessiva e che quindi come dire ho acquisito un metodo per poter eseguire cioè scegliere l'operazione più congruente con quello che io devo andare a fare ed in più aver spero almeno memorizzato lo schema generale che ripeto sarà utile anche per le strategie 3D perché l'impostazione di Fusion rimane invariata per quanto riguarda l'utilità di questo schema rammento che noi abbiamo visto le tab abbiamo visto le sezioni delle tab non siamo entrati nello specifico della singola strategia semplicemente tornando indietro e ricordando che una delle prime operazioni che noi andiamo a fare è andare a selezionare la geometria o lo stock per dirgli a lui su quali parti deve andare a lavorare vedremo poi che nello specifico della strategia già solo questo elemento crea un divario enorme perché nella modalità di selezione delle geometrie anche lì ci sono tutta una serie di variabili però senza entrare nel dettaglio ripeto quello che spero di essere riuscito a passarvi è la struttura la logica generale perché questa è quella che secondo me poi vi consente di muovervi all'interno del software con consapevolezza successivamente cioè nei prossimi video andrò prima ad analizzare i parametri fondamentali delle strategie 2D e poi ripeterò lo stesso identico percorso per le strategie 3D perché dico che andrò ad analizzare solo i parametri fondamentali perché rifacendo il percorso che dicevamo all'inizio 11 strategie 2D 14 strategie 3D 5 tab per ogni strategia e siamo a 125 variabili ogni tab si suddivide in sezioni ogni sezione ha dei parametri voi dovreste ormai render conto che le variabili che sono in gioco cioè che io dovrei memorizzare per conoscere tutti quanti i parametri arriviamo tranquillamente a superare il migliaio di unità e non è secondo me ma neanche sensato cercare di impararli tutti quello che bisogna fare è cercare di capire quali sono quelli fondamentali che ci occorrono per cui in prima seduta io limiterò le analisi a quelli che hanno una utilità nella determinazione delle lavorazioni su CNC a tre assi per cui tenderò ad escludere gli altri in seconda istanza cercherò di filtrare quelli che entrano in un dettaglio di lavorazione che mettiamola così non ritengo che sia utile per chi utilizza le CNC a livello obbistico con un minimo di avanzamento ma senza arrivare per capirci a costruire un carburatore in pratica almeno non è quello il mio obiettivo per me la CNC è una macchina che mi consente di sviluppare idee o cose che mi vengono in mente e che a mano non potrei realizzare per cui per me è uno strumento finalizzato ad uno scopo ed è anche quello che io vi consiglio su cui focalizzare la vostra attenzione cioè per determinare quale macchina mi occorre e quale software devo imparare io fossi in voi partirei dall'elemento finale cioè cosa voglio fare con la mia macchina quali sono i risultati che voglio ottenere e fin dove voglio arrivare data una risposta a questa domanda avete già un elemento di selezione per la tipologia di macchina ma anche per la tipologia di software da andare ad utilizzare se voi siete sicuri che vi fermerete a delle sagomature 2D il mio consiglio è lasciate perdere fusion e andatevi a vedere i video su jscat in 5 minuti sarete operativi e otterrete il risultato che vi siete prefigurato se invece pensate di andare avanti nel tempo magari migliorare la capacità della vostra macchina aumentare il livello di complessità delle cose che volete andare a realizzare allora il consiglio è o passate direttamente a fusion e quindi seguite o magari andatevi a vedere da qualche altra parte non lo so fate come vi pare dei corsi su fusion oppure potreste anche prendere in considerazione di fare i primi step con dei software tipo jscat per riuscire a capire quali sono i parametri principali che entrano in gioco e poi successivamente una volta compresi quelli passare software più complessi tipo questo con questo per questa puntata diciamo che ho più o meno detto tutto per cui vi saluto ci vediamo alla prossima